Siamo arrivati a Bereguardo, andiamo verso il castello di Bereguardo. Siamo arrivati a 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 Bereguardo. Siamo arrivati. Siamo arrivati a Bereguardo. Siamo arrivati. Da Crespi e Merita. Siamo arrivati a Bereguardo. Siamo arrivati al parco. Siamo arrivati a Bereguardo. Siamo arrivati. 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 arrivati. Siamo 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 arrivati. E' anche il bagno. La acqua è delicatamente pulita. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.